Giochettone delle domande, guarda che col coronavirus mi sto annoiando tantissimo, devo giocare un sacco Devo spiegare cosa stiamo facendo Ma non adesso, quando siamo in partita? Dobbiamo entrare in partita nello s... no, non ho capito niente È due anni che non registro, noi dobbiamo entrare in partita nello stesso istante in modo da entrare nella stessa partita Così, ma come si fa? Adesso vi spiego Fizzapro, le Tibinucco sono nello stesso gruppo in un'altra lobby Facciamo 3, 2, 1, click casino da spiegare E se funziona, ci troviamo in mezzo alla mappa, ci nascondiamo negli alberi e cerchiamo di vincere la partita E se non vinciamo, quello succede, pollice? Ci cazziamo Ci cazziamo Se tu fai 3, 2, 1, click, entriamo nella stessa partita, te lo dico io funziona 3, 2, 1, click Sì, ho messo King Scania No, proprio Ma come non hai messo King Scania? Ma sei un idiota, partisci, partisci Ovviamente funziona se mettete la stessa modalità di gioco, se no non funziona 3, 2, 1, click Per verificare se siete nella stessa partita, basta vedere quella al campione Infatti il nostro amico è un bloodhunt Nick WebRite, Nick WebRite e Cristian Nicolissen Robot 1996 Ma che robot? No, non siamo al campione noi No, super chaper, super chaper No, no, lì, abortire, abortire, abortire Sapete cosa aveva detto TGF per indicare qual è il mio personaggio? Ha detto Cristian e pollice Ho già fatto 15 minuti di registrazione Non abbiamo fatto un cazzo, pronti? 3, 2, 1, click 55 56 57 Che siamo nella stessa partita? Siamo nella stessa, nella nostra Ho la schermata bloccata, io Ho di tutto, la hack, di tutto Perché? Mi sta laggando da far schifo, ragazzi Errore, connessione, connessione terza al server Ma nooo Ecco Match, later Draco Sì, 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 sì Segui siamo la stessa partita Non c'è in solo Non c'è in solo Vuoi andare in arena? Ringhiamo al nostro amico la zona sbagliata Andiamo, dove andiamo? Hello darkness, my old friend Chi è quello lì? Ricordatevi le tre regole Luttare, correre, nascondersi Fai vedere cos'è il segnale internazionale di pace Il segnale internazionale di pace è questo Quello con cui ci riconosciamo Il segnale internazionale di pace Allora questo è Pete Questo è Pete Apero e il Bangalore Questo è Nico Questo è Nico Wright pelato Magica Ha richiamato qua vicino Andiamo a sparare, andiamo a sparare, andiamo a sparare Dai Pete Non l'ho colpito una cazzo di volta Stiamo peggio di qua, peggio di qua Guarda, sono andata a buttare la cupola Siamo in crisi Mi metto un portale Mi metto un portale Grazie I just want to say thanks Mi sto sparando Arriva l'anello, arriva l'anello Sono là, sono là Via, 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 via Fate finta di niente Fate finta di niente E' pieno di albero Adesso devono trovare un albero Sono tornato al cerchio Ok, sull'albero, presto Non riesco a salire Mi ammazzeranno, so già Sì, sì Sì State attenti che a un certo punto io tirerò l'ultimate Turco, eccoli Eccoli, eccoli, eccoli Dai, fermo Dai, fumo Ti amai Hai ragione Tiro il Carpaccaz così li attiro Non ancora, non ancora No, 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 no Non potete Non potete Non potete Non potete Dai Dai, fumo Non ci ammazzano Salvereste qua Vai via Vai via Cosa avvieni qua Aspetta, aspetta Stanno venendo qua Stanno venendo qua Sono lì della jump tower Sono qua sotto di me Sono sotto di me No, è un bloodhound, merda Hello, mother fuck Tu bitteri, difficoltà No Anteo mi hai tirato No, non ti ho tirato tu io Perché gli hai sparato Ho sbagliato, ero impanicato 3, 2, 1, click No, no Tg bend over Ok, abortira Abortira Aborti, aborti, aborti 3, 2, 1, click Amo, tx4 Sì, sì, sì Perfetto Avevo le coppie da buona My, 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 my My, 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 my Alaj, my, my, ma Mi, my, ma Lo prendevo Ah, il nostro micro stavolendo È il nostro micro stavolendo Goodbye, my friend 118! 118! Andiamo direttamente al cerchio finale Sono lì davanti, sono lì davanti Non farti vedere Pollice ha colpito, pollice ha colpito Can we get serious? TGF ha ucciso il kill leader Ha ucciso il kill leader TGF vai richiamo più vicino, qua dentro l'anello TGF Gente, gente, non lo prendete Non prenderlo, non prenderlo Mi hanno richiamato il kill leader Ah, è impossibile Sì, lì davanti, guardami Zibraltar è quasi morto Merda, ha messo la cupola, quel bastardo Semifinale, no, quartifinale Andiamo all'anello finale, cosa dite? Andiamo all'anello finale Io sono su un albero Io vado a prendere il car package allora, perché mi servono Arriva gente, arriva gente Ok, sono su un albero, perfetto Io sto andando il car package, nico Pollice va al car package, pollice va al car package Hanno preso una zipline? Pollice su di te, vai via Sono scappando La ultima, la ultima Perché sei andato al car package? Perché? Why? Why? Perché è andato al car package? Perché? Volevo il Krabber NAMICO! Ecco, è diventato cassa Appena si uccidono andiamo, andiamo ad attaccare Via, 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 via Sprecchiamami, sprecchiamami Sprecchiamami Non scaricchiamare Sprecchiamare Ehi! E' mancava un secondo dal mio banner No! Ma io! No, fruto, fermo Perché è una roba perfetta Perfetto, chi è che fa puni? Io contro B No, fermo, fermo, non puoi imbrogliarmi La picchi, la picchi, la picchi Ma dai Chi fa contro D, ma dai Eccomi, eccomi No, no, no Sii Lifeline è cresciuta nel ghetto Polizzi ha fatto zero kill E zero danno Ah, se volete vedere altri video andate su ThePistie Vi lascio il link in descrizione, sono video fighissimi F.B.I open up